Distrazione Sei distratta? Io tantissimo, è il mio tema proprio Io sono distratta, però sul lavoro invece non lo sono per niente Sei molto concentrata e focalizzata Ti capisco, perché anche io lo sono molto nella vita E poi nelle cose che invece devo fare Proprio nelle cose pratiche meno Le cose pratiche per me, io mi perdo, mi distraggo È una cosa incredibile Anche se c'è da dire che quando uno si distrae non è perché non stia pensando a niente Esattamente al contrario È il contrario, perché in un momento di riflessione Si affollano i pensieri e ti distrai da quello che stai facendo C'è anche una cosa che però un po' mi dispiace, mi disturba Che viviamo in un momento, in un periodo distratto Hai ragione, con poche attenzioni, poca cura Questa non è una bella distrazione Concentriamoci Concentriamoci e nel frattempo stiamo nella nostra distrazione astratta Se un problema necessita di un'assoluta concentrazione Simultaneamente interverrà una distrazione assolutamente irresistibile Questa è la legge di Murphy Ed è così che iniziamo la puntata di questo mercoledì La iniziamo senza indugge e senza distrazioni Perché è proprio alle distrazioni che è dedicata Allora, se dobbiamo parlare di distrazioni a teatro La prima che ci viene in mente è quella provocata Dalla nostra dipendenza compulsiva per i cellulari Sembriamo incapaci di tenere il cellulare spento Anche soltanto per un paio d'ore E di farci assorbire da quello che sta succedendo In quel momento sul palcoscenico Però noi adesso vi diamo la dimostrazione Che la rassegna di Ors merita di essere vista e vissuta Con i cellulari spenti e i cuori aperti Ciao, sono Anselmo E lo spettacolo che farò si chiama Sbada Bang, ovvero l'arte di prendersi a schiaffi Ed è uno spettacolo di body music o body percussion Cioè fare musica usando solo il proprio corpo L'ora di ridere è uno spettacolo che parte da una riflessione che ho fatto un giorno Guardavo dei video su Youtube E sono capitato sulla video intervista di Nino Formicola Gaspare al funerale del suo compagno di una vita E di scena che è Andrea Brambilla Giugurro Il mio spettacolo dura un'ora E ti pervuoti per un'ora? Non solo, non solo, sennò sanguinerezza Cosa succede a una coppia comica quando uno dei due muore? E sono partite delle riflessioni No, ci sono alcuni sketch in cui uso la commedia dell'arte In cui uso voce, quindi canto Della beatbox comica E' uno spettacolo nonostante questo in realtà anche comico Quindi c'è un lato dolce amaro che cerchiamo di comunicare E allora Sbada Bang Sbada Bang C'è molto del nostro dentro Sono Camilla Lietti della rivista Stratagemmi Prospettive Teatrali Stratagemmi nasce 11 anni fa Come rivista trimestrale di studi sul teatro Mano a mano però si è spostata molto di più sul web Un'attività della rivista si è ampliata Abbiamo fondato un'associazione culturale che si chiama Prospettive Teatrali Che si occupa di progetti di audience development, audience engagement Per lo più legati alla fase dell'adolescenza Insomma dei giovani spettatori Come possibilità di coltivare gli spettatori del futuro Qui facciamo degli incontri con spettatori Con il pubblico invece più adulto Sempre per diciamo promuovere un pochino di più il ruolo della critica Come mediatore tra l'artista e il teatro E ora siamo qui a Ors con un osservatorio critico Di 10 giovani under 35 Redattori che racconteranno quello che accade Prima, dopo, durante gli spettacoli Intervistando il pubblico, gli artisti eccetera Siamo qua, oggi è la prima di Ors E abbiamo la compagnia La Lucina La Lucina è un testo di Antonio Moresco Di cui ci siamo innamorati Danza o teatro? Io faccio danza In generale siamo un disco Non ci vogliamo definire né danza né teatro Ci sono dei video Al momento sono in una versione un po' provvisoria Cosa vi aspettate da questo Ors? Tante persone, tante proposte e tante suggestioni Allora nel titolo c'è un presente e un futuro Sono e sarò come vedete il vostro presente e il vostro futuro Presente sicuramente molto in fermento Si stanno muovendo cose e iniziamo E il futuro speriamo luminoso Una parola per definire la Lucina Imprevedibile e sorprevedibile Allora adesso facciamo tipo mantra Quindi continuate a mantenere viva la vostra attenzione Non lasciatevi tentare da alcuna distrazione E focalizzatevi sulla vita da assessore Oggi abbiamo un ospite eccezionale al nostro magazine Che è l'assessore alla cultura del comune di Milano Filippo del Corno Allora io mi sono documentata E ho visto che assessore dal latino significa Colui che siede accanto Spieghiamo meglio che cos'è un assessore In effetti è colui che siede accanto al sindaco Nel senso che la figura dell'assessore È la figura di fiducia Che il sindaco individua Per curare un certo aspetto dell'amministrazione della città Al mio caso curarmi delle politiche culturali della città Nel caso del mio collega Maiorino Delle politiche sociali e via di questo passo Qui a Milano ci sono un sacco di iniziative culturali E io mi domando L'assessore alla cultura Filippo del Corno Come ce la fa a star dietro Perché io poi oltretutto la incontro ovunque Quindi vuol dire che tempo libero zero? Io cerco il più possibile di essere presente Per seguire appunto lo sviluppo Il percorso e il cammino delle realtà culturali della città E anche perché ritengo che sia doveroso Testimoniare una presenza e una vicinanza Dell'amministrazione comunale nei confronti di chi Assumendosi molto spesso Rischi di carattere economico, finanziario Oltre che evidentemente mettendoci Una grande quota di energia e passione Fanno in modo che poi l'offerta culturale della città Sia appunto così ricca Come si muove nella città un assessore? Anzi l'assessore del Corno In realtà un assessore si muove con tutti i mezzi Che questa città mette a disposizione Io prevalentemente uso moltissimo la metropolitana L'ho incontrato Quindi posso testimoniare che l'ho visto in metropolitana Ecco L'assessore Filippo del Corno però È un musicista fondamentalmente Ci vuole raccontare il suo Il curriculum dell'assessore Ma io in realtà sono un musicista Sono un compositore Mi sono diplomato in composizione Al conservatorio di Milano Nel 1995 E pochissimi anni dopo ho iniziato a insegnare E quindi la mia professione è Da una parte quella dell'insegnamento Della composizione nel conservatorio Sono di ruolo al conservatorio di Trieste Anche se attualmente sono in aspettativa Per l'esplettamento del mio mandato Ma il mio lavoro vero è scrivere musica E un'ultima domanda No, una penultima Che cosa non le piace di Milano? Eh, è difficile dire Perché io sono innamoratissimo di Milano da sempre Indipendentemente dalle amministrazioni Anche se trovo la città di oggi Molto più vicina In un certo senso ai miei ideali Al mio sentire di quanto non fosse 15-20 anni fa Di Milano non mi piace La non curanza che a volte I milanesi hanno Dello spazio pubblico E come vede Milano Nel prossimo futuro? Diciamo che io spero che Milano La Milano del prossimo futuro Assomigli molto alla Milano di adesso Cioè sia una città aperta Una città dinamica Una città dal forte respiro internazionale Ma al tempo stesso consapevole E orgogliosa della propria tradizione Credo che Milano debba giocarsi Questo lo dico tante volte Ma ci credo Deba essere una delle città Anzi tra le città Che si giocherà La grande trasformazione Che attende La società del futuro Cioè io credo Ma non solo Lo vivo che si troverà Le città stanno E quindi credo che Milano Sarà una delle città Che dovrà sperimentare Insieme a Barcellona Insieme a Lione Insieme a Berlino Insieme a Insomma Tante altre città europee Insieme a Porto Per dire La forma e la struttura della città stato Fantastico Allora Ringraziamo l'assessore Filippo Del Corno E niente Ci vediamo alla prossima puntata Ciao E ora invece vi dico Distraetevi Ma sì perché dopo una settimana Di agende piene Impegni ad incastro perfetto Che sembra di giocare a Tetris Concedetevi Il lusso di distrarvi E magari fatelo Placando un po' La vostra fame di sete Di cultura E quindi per questo Vi consigliamo le nostre Le nostre mostre Una è Tokyo Tsukishi Mostra fotografica Di Nicola Tansini Presso Leica Gallery Dal 5 ottobre Al 4 novembre Ed è gratuita Quindi distrarsi così Mi sembra il massimo E poi l'altra è Tex 70 anni un mito Dal 2 ottobre Al 27 gennaio Al museo La permanente Cari amici Questa settimana Mi trovo da Uro Buro Una bellissima bottega Che è in realtà Una cooperativa sociale Nel cuore del quartiere Isola Animata da Piervito Antoniazzi Che poi è colui Che ha creato Tutto quello che oggi È la fertilità E la vita La vitalità del quartiere Isola Questo è il suo tesoro Il suo luogo magico Che appare con la vetrina Come una gioielleria Una gioielleria molto particolare Molto speciale Dove i pezzi Sono tutti stati realizzati Qui a mano Talvolta addirittura Sul disegno dei clienti Ma c'è poi Il laboratorio Viste Ci sono dei progetti Bellissimi Di creazione del gioiello Tra il cliente E l'artigiano Quindi qui veramente Si ritrova Il significato Medievale Della parola arte Che unisce L'artista E l'artigiano In una cosa unica Quindi è sicuramente Un'anima nascosta Che vale la pena Di scoprire Il serpente Che si morde la coda È un simbolo Dei cicli Della natura Della vita E l'abbiamo scelto Come simbolo Di rimettere In pista In circolo Delle risorse umane Che sono state messe In margini L'abbiamo fatto Un'attività Di laboratorio orafo Che un po' vuole Riprendere La tradizione Delle botteghe medievali Cioè Un luogo Dove insieme Si produce Si crea Ma anche Si insegna Ma anche Che si vende Siamo partiti Nel 2001 Con un corso Con il maestro Davide De Paoli Che ha insegnato A ragazzi svantaggiati A creare gioielli Negli anni Ci siamo consolidati Al quartiere Isola Sempre con la caratteristica Del laboratorio A vista Ascoltando sempre Molto I nostri clienti E a volte Realizzando dei progetti Segnalati da loro Uno dei progetti Che più Si è affermato E' il progetto Fai la tua fede Dove Il nostro orafo Mor Un orafo Che era già Professionista Nel suo paese d'origine Senegal E ha avuto la fortuna Di poter continuare Anche qua Assiste Una coppia Di futuri sposi Che realizzano Da soli Le loro fedi matriminali E' un atto Simbolico Ma un'esperienza Significativa Che moltissime persone Da noi Hanno fatto Uroburo oggi Si sta innovando Rinnovando Abbiamo cominciato Con una parte di e-commerce Abbiamo ampliato I nostri creativi Ci stiamo sviluppando Su un mercato Molto più vasto E stiamo cercando Di migliorare sempre di più La parte produttiva In più Stiamo sempre cercando Di migliorarci Sulla produzione E sulla qualità Soprattutto perché ogni anno C'è sempre più competizione In questo mercato E a proposito di distrazioni Il 27 dicembre del 2015 Scrivevo Non sono precisa E sono distratta Non ho una bella grafia E coloro fuori dai margini Mi cadono cose dalle mani Mi scevolano persone Dalle dita Ho un brutto rapporto Con gli accendini La paura delle scale E di chi mi fa promesse Cammino a piedi nudi Quando ho bisogno di sentire Il pavimento E non uso l'ombrello Quando mi voglio ricordare Che esisto Tra l'altro Quanto è bello Quando piove Andare in giro Con le cuffiette nelle orecchie Ciao a tutti Oggi voglio consigliarvi Una canzone poco conosciuta In più Si tratta della Spagnola Di Rosanna Fratello Uscita nel 1974 Per la Ricordi All'interno dell'album Tanghi e waltzer Di casa mia Rosanna Fratello È una cantante italiana Molto conosciuta A cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 Soprattutto per canzoni di livello Tra le quali Sono una donna Non sono una santa E se tamo tamo Ma anche per la sua bellezza E la sua eleganza La canzone La spagnola È stata utilizzata anche come colonna sonora Per il film di Micros Janzo La pacifista Con la formidabile Monica Vitti La canzone è una sorta di tango Il cui testo racconta la storia di una prostituta spagnola Che ai suoi clienti dona tanti baci e tanto amor E che tutti chiamano regina Stretti stretti nell'estasi d'amor La spagnola sa mar così Bocca a bocca La notte il dì Buon ascolto Continuiamo da dove c'eravamo interrotti Non mi scordo di nulla I ricordi mi si incastrano ovunque Non so aspettare Mi brucio la lingua quando bevo il caffè Mi taglio Mi scotto Mi sporco quando provo a cucinare Tant'è che poi molti miei amici mi dicono Ma invece di invitarci a cenare da te Perché non ce ne andiamo tutti insieme al cinema? Il film di oggi non è un film Ma è un documentario A voce alta Anzi A voix haute La force de la voix Lo dico in francese Perché il film va visto assolutamente in lingua originale E racconta il percorso di un gruppo di studenti Che si stanno preparando A un certame di arte oratoria È veramente stupefacente Perché ti porta nel mondo della parola E ti fa capire quanto importante sia Arricchire il proprio vocabolario Rendere i discorsi interessanti Soltanto con delle pause Con dei toni diversi Ed è veramente un documentario proprio interessante Soprattutto per insegnanti Per chi lavora anche nel sociale E poi anche per noi che facciamo teatro Perché attraverso questo documentario Si capisce quanto importante sia anche il nostro lavoro Buona visione Ciao a tutti Quindi concludiamo Non chiudo il tubetto del dentifricio Lascio sempre i cassetti aperti Perdo tutto in continuazione E ho sempre paura di quello che cerco Non mi so affidare più Vabbè, sì, diciamo che All'epoca poi era anche un po' più melodrammatica di adesso Io poi vorrei dire che passati 2-3 anni Adesso sono molto più concentrata Attenta, focalizzata, precisa Però oltre a tutto ciò Sono anche una pessima bugiarda E quindi non te lo dirò Cari cancerini Desiderate tanto trovare un equilibrio con voi stessi Ma desiderate anche essere inondati di affetto Perché ricordiamo che l'acqua è il vostro elemento Questa settimana sarete molto molto fortunati Perché Giove e Marte in Venere saranno buonissimi con voi Per le coppie Ci saranno tanti nuovi progetti in arrivo Per i single Lasciate da parte le vecchie delusioni e i vecchi amori Perché sono in arrivo per voi tanti ed interessanti incontri Inoltre qualche piccolo problemino in famiglia ci sarà E questo sarà colpa di Mercurio che si è messo un po' a ritraverso Però mi raccomando Siate poco permalosi e non chiudetevi in voi stessi Vedrete che tutto si risolverà Un saluto dalla vostra Morgana E arrivederci alla prossima puntata del nostro Rosco E quando voi volete smettere di pensare E distrarvi E quindi iniziare a riflettere Allora venite a teatro Tanto noi vi aspettiamo sempre qua E soprattutto noi ci vediamo mercoledì prossimo Un abbraccio fortissimo Soprattutto ai distratti cronici Ciao a tutti Ciao ragazzi Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al nostro canale YouTube MTMTV E seguite la programmazione sul nostro sito mtmteatro.it Ciao a tutti